Le ditte Zio Piro e Gold Dragon vi danno il benvenuto in questa splendida località. Questa sera assisteremo ad un evento unico nel suo genere, dove musica e fuoco daranno vita ad uno spettacolo indimenticabile. Questa sera il cielo di Rocella Ionica si illuminerà. Si ringrazia la ditta Gold Dragon e Zio Piro, i parloci, padre Francesco, don Giuseppe, don Gianluca e don Cristo, l'amministrazione comunale, il corpo dei vigili urbani, i carabinieri e la prefettura. Ma un ringraziamento particolare va alla popolazione di Rocella Ionica Turca per il generoso contributo offerto. Evviva Maria! Ionica, anima mea, mananica, lasea, anima mea, on ostrac Magnificat, Magnificat. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione